del capitale sociale e i libri sarebbero da portare in tribunale, ci sono molte cose che sono gestite male e che possono e devono essere migliorate, poi quando diciamo aria nuova a Milano non vogliamo dire né cose utopistiche né anche cose generiche, vogliamo partire veramente da una politica concreta, misurabile sul traffico, sulla mobilità, sulle riconversioni, abbiamo moltissime cose da dire, le diremo in questa campagna elettorale, intorno naturalmente Pasquale e Salvatore che un po' guida questa nostra campagna, ma i tanti amici che si impegneranno con la partecipazione direttore nelle liste, con il voto in tutti i modi per rafforzare questa nostra proposta che è decisiva a Milano, decisiva per il governo di Milano e lo sarà anche per il governo del paese, buon lavoro. Grazie mille.